Marianna D'Alessandro, domani la CF è impegnata sul difficile campo della Ternana, quarta in classifica, avversario complicato da affrontare. All'andata vinse la Ternana al comunale 2-1, ma la CF non meritava di perdere. Le chance per portare a casa un risultato da questo difficile campo comunque ci sono. Sì, sicuramente sarà una partita difficile, conosciamo tutti la posizione della Ternana in classifica e sappiamo anche che avversari sono sul campo, però questo nulla toglie al fatto che le partite si giocano in campo e quindi la CF darà il tutto per tutto per portare a casa il massimo dei punti, perché ne abbiamo bisogno, siamo in una situazione di difficoltà e bisogna dare davvero tanto per portare a casa i punti. La squadra sta trovando pian piano un proprio equilibrio, ovviamente bisogna cercare di ridurre al massimo gli errori sia in difesa che soprattutto anche in attacco, perché alla fine i punti si fanno se si segna, se si vince e ovviamente anche se non si prende gol. Quindi pian piano si sta formando una grande squadra, bisogna sfruttare al meglio le occasioni che ci capitano in partita e appunto cercare di ridurre il margine di errore per quanto sia possibile. Riguardo il mio percorso, sì, sono partita dalla panchina e le ultime partite ho giocato da titolare e credo che sono cresciuta molto in questi pochi mesi, grazie al gruppo, grazie al mister, grazie a tutte le ragazze e questo mi ha permesso appunto di conquistarmi in questo posto per il momento.